Ok, mi chiedi, sono tutti i miei giovani, tutti i miei amici. Franco è in San Giunengura, e Franco è in Musco, Giorgio, qui, e tutti i miei amici, è in Musco, è in giro i miei amici. È vero Franco? Sì. Bene, bene. Dove vai Franco oggi? Dal dentista, come hai detto? Franco, oggi andiamo a un bambino Franco è molto buon musicista Gita è molto buono